Lui è Wade Wilson, l'uomo che nell'ultimo mese ha fatto tanto parlare di sé in tutto il mondo, l'uomo che ha la raccomandazione della giuria riguardo la sua condanna a morte, non ha battuto ciglio. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche oggi sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi finalmente vi voglio raccontare la storia di Wade Wilson, che lo so, ha lo stesso nome di Deadpool, ma c'entra ben poco con lui. Eppure uno dei soprannomi che gli è stato dato riguarda proprio Deadpool. Comunque, siete stati voi a chiedermi più e più volte di parlarne e nonostante non ci sia stata ancora una condanna ufficiale, ho deciso comunque di farci un video. Eventualmente quando ci saranno aggiornamenti magari vi faccio uno short qui sul canale. Fatemi sapere se volete lo short o magari un TikTok, che ne so. Prima di cominciare però, come al solito, volevo ricordarvi che su Pampling trovate tutte le magliette che indosso nei video, ma anche tantissime altre cose molto fighe. E inserendo il codice Andrew, come al solito, riceverete delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. Ogni settimana sul sito c'è una promozione diversa, quindi in descrizione vi metto la promozione corrente. Detto questo direi che possiamo cominciare. Come penso molti di voi, anche io, sono venuto a conoscenza di questa storia tramite alcuni video su TikTok. Per lo più erano spezzoni del processo, ma su TikTok, oltre a quello, non veniva raccontato praticamente niente. E anzi, i commenti erano incentrati su quanto fosse figo questo Wade Wilson, senza dare troppo importanza a ciò che ha fatto, che è terrificante. Quindi sono rimasto, diciamo, un po' deluso, sia leggendo i commenti che guardando i video su TikTok sul caso. Quindi anche dopo i vostri commenti, in cui mi avete consigliato di parlarne, ho deciso di cercare qualsiasi informazione disponibile su di lui, su ciò che ha fatto, sul suo processo, su tutto quanto. Quindi, eccoci qui. Si tratta di un caso davvero recente. Come vi dicevo, il processo è ancora in corso, ma per ora racconterò tutto ciò che sono riuscito a recuperare. E direi di partire proprio da lui. Chi è Wade Wilson? Wade Wilson nasce nel 1994 in Florida e viene al mondo da due genitori molto, molto giovani. Il padre si chiama Steven Testa Secca e all'epoca della nascita ha appena 15 anni, mentre sua madre ne ha solo 14. E secondo quanto sono riuscito a trovare, soffre pure di disturbi mentali. Purtroppo non sono riuscito a trovare il nome di questa ragazza, di sua madre, perché anche durante il processo, quando Steven dice il suo nome, viene censurato. Comunque, i due ragazzi, consapevoli di non essere pronti a crescere un bambino, decidono di dare subito Wade in adozione ad una coppia. Una coppia formata da Steve e Candy Wilson, che non erano degli sconosciuti, ma vecchi amici dei nonni materni di Wade. La coppia, oltre al nuovo arrivato, aveva già altre due figlie, Wendy e Whitney. E, da quel che sappiamo, i coniugi Wilson non hanno mai fatto mancare nulla a Wade, che si è sempre dimostrato un bambino molto intelligente e creativo. A scuola ha sempre preso ottimi voti e ce leva anche nello sport. Durante l'adolescenza, però, il suo comportamento ha cominciato lentamente a cambiare. Il ragazzo, infatti, a quell'età comincia a fare uso di droghe, tra cui uso sporadico di cocaina e di fentanyl, il che lo porterà a peggiorare sempre di più a scuola e ad allontanarsi sempre di più dalla sua famiglia. Aumenteranno anche gli episodi di aggressività. Infatti, Wade comincia ad avere costanti sbalzi d'umore, passando dall'essere calmo e pacato all'infuriarsi senza motivo l'istante successivo. Pensate che un giorno Wade ha addirittura aggredito uno dei membri della sua famiglia, ma non è chiaro chi, e per questo i genitori hanno chiesto un ricovero immediato in psichiatria, quello che da noi viene chiamato comunemente TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Nel centro di salute mentale, Wade si confronterà con diversi psicologi e psichiatri e gli verranno diagnosticati diversi disturbi, tra cui il disturbo bipolare della personalità e la schizofrenia. Gli verranno ovviamente prescritti dai farmaci per controllare, tenere sotto controllo i suoi disturbi, ma lui non li prenderà mai con regolarità. A 18 anni, Wade poi decide di contattare i suoi genitori biologici e così per la prima volta conosce suo padre, ma i due non sembrano stringere un rapporto di affetto. Wade, infatti, comincia a chiamarlo solo per chiedergli dei soldi, per cui i due finiscono per incontrarsi sempre meno spesso. Wade poi, in sostanza, continuerà con la sua vita criminale fino al giorno in cui è avvenuto quello per cui l'abbiamo visto a processo. Non sappiamo praticamente nient'altro sul suo passato, quindi siamo costretti a schippare direttamente al 2019, ovvero all'anno in cui sono avvenuti i fatti. È tutto accaduto a Cape Coral, in Florida, una delle città con la percentuale più alta se si parla di aumento demografico. Nel 2000, pensate, la città contava solo 100.000 abitanti, solo, tra virgolette, mentre nel 2006 già superava i 150.000, e la popolazione è in continua crescita. Ecco, all'epoca dei fatti, Wade vive proprio a Cape Coral, e nel 2019 ha 25 anni. Anche una fidanzata di nome Melissa Montanes, che aveva conosciuto sei mesi prima grazie a degli amici. Il 6 ottobre di quell'anno, quindi nel 2019, Wade e la sua fidanzata decidono di uscire insieme e andare in un bar della zona. Una volta arrivati lì, i due però hanno una discussione anche piuttosto accesa, per una cagata. In sostanza, Wade vuole cambiare bar, mentre Melissa insiste per rimanere lì. Allora il ragazzo, con la scusa di dover recuperare qualcosa che aveva dimenticato in macchina, chiede le chiavi dell'auto a Melissa ed esce dal bar, perché stava guidando lei. Dopo una buona decina di minuti, non vedendolo tornare, Melissa decide finalmente di uscire dal bar, e nota che sia la sua auto che Wade erano totalmente scomparsi. Lui se n'era andato e l'aveva lasciata lì da sola senza la sua macchina. Melissa quindi decide di contattare la sua migliore amica Amy e tra le lacrime le chiede di andare a prenderla, perché Wade l'aveva abbandonata lì al locale, lasciandola tra l'altro a piedi e di fatto rubandole la macchina. Wade in tutto ciò era andato a recuperare il suo amico Jason Shepard, col quale ha deciso di andare in un locale chiamato Buddha Live, situato a Fort Myers. Il piano era semplicemente quello di ascoltare un po' di musica dal vivo e divertirsi. Come sapete Wade era un grande consumatore di cocaina e quella sera decide di farne uso insieme a Jason, che ne aveva un bel po' con sé. Trascorrono quindi la serata al locale divertendosi e ballando, senza pensare minimamente alla povera Melissa, la ragazza di Wade. Questo però non è l'unico torto che le farà l'uomo quella sera. Dopo un po' di tempo trascorso al bar, infatti Wade e Jason fanno la conoscenza di due ragazze. Christine Melton, di 35 anni, e la sua amica Stephanie Sailors. Wade si invaghisce subito di Christine e si presenta a lei dandole però un nome falso e dicendole di chiamarsi semplicemente Junior. E i quattro finiscono per passare l'intera serata insieme a ballare e divertirsi, eccetera. Quando arriva l'orario di chiusura del locale, tutti insieme decidono di continuare la festa a casa di Jason. Lì però Wade e Christine continueranno a scambiarsi effusioni e per questo, alla fine, decidono di andare a casa di lei per avere un po' più di intimità. Il giorno successivo, quindi il 7 ottobre, Wade esce da casa di Christine e se ne va dopo la serata passata insieme. Non appena si ritrova da solo, però, comincia a chiamare la sua fidanzata Melissa in maniera molto insistente. Reduce da una serata di alcol e droga e visibilmente alterato, non solo l'ha in tasa di chiamate, ma comincia a mandarle decine di messaggi in cui le chiede di vedersi subito perché è molto arrabbiato con lei. Arrabbiato per cosa? Non si sa. La cosa che risulta subito molto strana a Melissa è che le chiamate non stavano arrivando dal numero di cellulare di Wade, bensì da un numero sconosciuto. Lei non ce l'aveva salvato in rubrica. La ragazza però al momento era al lavoro, più precisamente si trovava al centro benessere chiamato Mila Spa, dove lavorava come impiegata. Dice quindi a Wade di raggiungerla lì perché lei appunto non poteva sentarsi da lavoro senza motivo, ma soprattutto perché in quel momento in realtà lei aveva iniziato ad avere paura di lui e preferiva incontrarlo in un luogo pubblico. Melissa sapeva benissimo del passato violento di Wade e del suo problema legato all'abuso di droghe e sentendolo così nervoso preferiva non stare con lui da sola in privato. Però quando lui arriva al parcheggio del centro benessere Melissa nota subito che stava guidando un'automobile che non era la sua. Il ragazzo era la guida di una Nissan Versa nera. Così Melissa si avvicina alla vettura al lato del guidatore per parlare con Wade e lui abbassa il finestrino. Ma prima di fargli uscire qualsiasi cosa comincia a chiedergli nervosamente dove cavolo fosse la sua macchina e dove fosse sparito il giorno prima quando l'aveva abbandonata lì al bar da sola. Lui visibilmente arrabbiato non risponde a nessuna delle sue domande e le ripete insistentemente di salire subito in macchina. Melissa vedendolo così alterato si rifiuta categoricamente anche perché al momento si trovava a lavoro aveva paura di lui e non poteva sentarsi comunque in generale senza motivo ma Wade insiste e continua a dirle di salire subito in macchina. All'ennesimo rifiuto il ragazzo esce dalla vettura stringe Melissa da un braccio e cerca di farla entrare nella vettura fisicamente e in maniera molto aggressiva. Poi le tira i capelli e il vestito con forza continuando a cercare di farla entrare in macchina. In tutto ciò però Wade non aveva messo il freno a mano per cui l'auto ha cominciato a muoversi in maniera lenta ovviamente in avanti lentamente facendogli però perdere l'equilibrio. Wade quindi spinto dall'auto e cadendo carica tutto il peso sopra Melissa e la fa cadere a terra. A quel punto lui è su tutte le furie si inginocchia a terra e comincia a colpire Melissa in pieno volto con schiaffi e pugni. Le mette le mani intorno al collo e le tira i capelli. Lei cerca in tutti i modi di calmarlo e comunicare con lui ma Melissa affermerà poi che Wade in quel momento aveva lo sguardo completamente vuoto e non sembrava nemmeno rendersi conto di quanta rabbia stesse sfogando su di lei. La ragazza in qualche modo comunque riesce a trascinarsi fino alla scala che portava al centro di bellezza vi metto una foto per rendere più chiara la scena e arrivata alla scala si aggrappa ad essa nel disperato tentativo che qualcuno uscisse fuori ad aiutarla ma non esce nessuno. Eppure lei riesce finalmente e miracolosamente a divincolarsi per poi salire sulle scale per arrivare al piano di sopra e rifugiarsi all'interno. In tutto ciò mi sono chiesto perché nessuno fosse intervenuto per aiutarla. Una pattuglia di polizia arriva sul posto pochi minuti dopo intorno alle 8.50 del mattino dato che erano arrivate diverse segnalazioni al 911 secondo cui un uomo stava aggredendo una donna in un parcheggio. A quanto pare diversi testimoni avevano assistito alla scena da lontano ma nessuno era intervenuto. Nessuno aveva avuto il coraggio di intervenire. Tuttavia le segnalazioni al 911 saranno di vitale importanza. All'arrivo della polizia purtroppo Wade era già scappato via con la Nissan nera quindi l'ufficiale di turno Timothy McCormick va da Melissa e le chiede di andare con lui in stazione di polizia per rilasciare la sua dichiarazione e raccontare nel dettaglio l'aggressione appena avvenuta. Intanto viene immediatamente emanato un mandato di arresto per aggressione nei confronti di Wade. Durante il colloquio alla centrale Melissa è spaventata e ha il viso gonfio a causa delle botte appena ricevute ma nonostante tutto inizia a parlare. Racconta all'ufficiale che lei e Wade stavano insieme solo da sei mesi e avevano anche convissuto per un paio di mesi fino a quando Wade non era stato arrestato per furto e ha dovuto scontare tre mesi in carcere. Nonostante ciò Melissa aveva comunque deciso di mantenere i contatti con lui mentre era in carcere e al suo rilascio ha scelto di dargli una seconda possibilità. L'agente quindi controllando sul database nota infatti che Wade aveva un passato criminale non indifferente ed era stato arrestato già ben 20 volte per piccoli crimini tra cui furti aggressioni e violazioni di domicilio. Melissa continua dicendogli che quel giorno Wade aveva iniziato a chiamarla già dalle prime ore del mattino in maniera insistente e con un numero che lei non conosceva. Il numero in questione includeva un prefisso locale da cui la polizia ha potuto ottenere un riscontro sul database per capire a chi appartenesse di chi fosse ed ecco viene fuori che il numero apparteneva a Christine Melton la ragazza con cui Wade aveva passato la notte. Intanto gli agenti cercano di contattare Christine tramite il suo posto di lavoro per capirne di più ma il suo datore riferisce che Christine quella mattina non si era presentata. Così l'ufficiale McCormick decide di mandare una pattuglia a casa della donna. Mentre Timothy e Melissa sono ancora in centrale un agente entra nella stanza dicendo all'ufficiale che un poliziotto in servizio ha individuato la vettura che stavano cercando ovvero la Nissan Nera. L'auto in quel momento si trovava nel parcheggio del ristorante chiamato Joe's Crub Shack e all'interno della macchina c'era proprio Wade Wilson. Timothy quindi sprona l'agente di turno ad andare da lui per fargli qualche domanda e in qualche modo a temporeggiare aspettando l'arrivo dei rinforzi. E tutta questa scena è stata registrata dalla bodycam del poliziotto di turno quindi spiegherò brevemente che cosa è successo in quel momento. Il poliziotto si avvicina all'auto e nota Wade alla guida a petto nudo e visibilmente alterato. Gli chiede che cosa stesse facendo lì e Wade con tono calmo risponde semplicemente che stava aspettando la sua ragazza. A quel punto l'agente gli dice di scendere dalla macchina perché doveva fargli qualche domanda mentre aspettava l'arrivo di un suo collega ma Wade non sembra ascoltare e con tono nervoso continua a ripetere che non sa cosa stia succedendo e non capisce il motivo per cui sarebbe dovuto scendere dall'auto. Poi chiede al poliziotto se per caso fosse in arresto e l'agente con tono calmo gli dice semplicemente che ha ricevuto il compito di andare lì da lui trattenerlo ma che al momento non era in arresto. Gli intima quindi di nuovo di scendere dall'auto ma Wade non sembra volerlo ascoltare e dopo poco tira su il finestrino e mette in moto la macchina. In quel momento possiamo sentire sempre attraverso la bodycam l'agente che comunica all'ufficiale Timothy che ha bisogno di rinforzi e intanto Wade scappa via con l'auto La polizia si mette attivamente all'inseguimento di Wade che però una volta uscito da parcheggio riesce facilmente a seminare la gente che aveva provato a trattenerlo e con la Nissan guida a tutta velocità fino a un'azienda sull'Hancock Bridge che dista circa 20 minuti dal parcheggio in cui si trovava poco prima Wade in quel momento è alla disperata ricerca di aiuto e di qualcuno che lo nasconda e si reca proprio lì perché conosce il proprietario dell'azienda un uomo chiamato Joshua Wade quindi va da Joshua e gli chiede di prestargli dei soldi per acquistare un miglietto dell'autobus per andare fuori città gli dice che non ha tempo da perdere perché lo stanno cercando Joshua quindi gli chiede di calmarsi e di spiegargli con calma cosa fosse successo ma Wade è in totale stato di agitazione in quel momento e gli dice di aver fatto delle cose terribili e che deve scappare subito in quel momento Joshua lo rassicura dicendogli che ci avrebbe pensato lui aggiunge anche di aspettarlo lì mentre andava nel suo ufficio a recuperare dei soldi per prendere l'autobus tuttavia l'uomo realizza immediatamente che qualcosa non andava e infatti non aveva realmente intenzione di prestargli dei soldi per scappare anzi decide subito di chiamare il 911 nella chiamata si sente Joshua che dice all'operatore che in quel momento c'era un uomo completamente instabile e agitato che diceva di aver fatto qualcosa di molto brutto l'operatore chiede quindi a Joshua il nome di questo individuo e lui risponde che si chiama Wade Wilson aggiungendo poi che l'auto su cui si trovava Wade era sicuramente rubata ed era probabile che sarebbe scappato di nuovo se non fosse arrivata subito una pattuglia con una rapida ricerca l'operatore manda la segnalazione agli agenti di Cape Coral che vedono subito che c'era già un mandato d'arresto per Wade da parte della polizia di Fort Myers per l'aggressione di Melissa quindi il perimetro di ricerca si allarga ulteriormente e sempre più pattuglie si mettono alla sua ricerca quando Joshua finisce la chiamata ed esce dall'ufficio poi nota che Wade purtroppo era già scappato era scomparso così come la Nissan Nera non era più nel parcheggio durante le ricerche però viene segnalata alla polizia di Cape Coral un'altra situazione molto urgente infatti quella stessa mattina era scomparso una donna di 43 anni una donna di nome Diane Ruiz mamma di due figli di nome Brandon Queller di 29 anni e Zane Romero di 19 quella mattina Diane sarebbe uscita per recarsi a lavoro un bar chiamato Moose Lodge che dista solo un paio di chilometri da casa sua ma non si sarebbe mai presentata al posto di lavoro la sua scomparsa è stata denunciata intorno alle 16 la borsa di Diane è stata poi ritrovata abbandonata in una strada vicino al suo posto di lavoro e secondo alcune testimonianze poco dopo che la donna era uscita di casa per andare a lavoro una Nissan Nera era stata avvistata sulla strada che portava appunto al Moose Lodge la stessa Nissan su cui Wade era alla guida quel pomeriggio mentre l'intero dipartimento di polizia era sulle sue tracce Wade decide di rifugiarsi all'interno di una casa i proprietari dell'abitazione al momento per fortuna non si trovavano lì perché erano partiti letteralmente la mattina stessa per l'uaio quando il ragazzo comunque si sente finalmente al riparo decide di bere qualcosa qualche birra dal frigo e mangiare qualche stuzzichino mentre pensava quale sarebbe stata la sua prossima mossa e purtroppo per lui farà una scelta che porterà quasi subito alla sua cattura Wade infatti decide di fare una telefonata dal telefono fisso di quella casa per chiamare il suo padre biologico Stephen testasecca durante la chiamata Wade gli chiede di chiamargli un Uber perché aveva fatto qualcosa di orribile e diverse pattuglie di polizia erano alla sua ricerca Stephen quindi cerca in tutti i modi di farsi dare la posizione esatta di Wade ma il figlio non sembra intenzionato a collaborare e riattacca cioè gli ha chiesto un Uber per cui serve la posizione e poi rifiuta di dargli la posizione comunque pochi minuti dopo Wade richiama Stephen e agitato ripete di aver fatto qualcosa a cui non si può rimediare e che ha bisogno urgentemente di un Uber in qualche modo a quel punto Stephen riesce a ottenere la posizione esatta di Wade e così gli permette di mandargli subito l'Uber tuttavia l'uomo invece di mandare un taxi in un Uber alla posizione che gli aveva detto decide di contattare il 911 anche lui e di mandare due pattuglie all'abitazione la polizia di Cape Coral che era già alla sua ricerca da quella mattina arriva dopo pochi minuti alla casa in cui si trovava Wade e diversi agenti circondano la proprietà il sergente esce da una delle vetture e con il megafono intima Wade ad uscire dalla casa con le mani in alto proprio come si vede nei film e finora non era mai successo in una storia che ho raccontato comunque anche se all'inizio il ragazzo non sembra avere la minima intenzione di uscire alla fine decide di arrendersi all'autorità e si fa arrestare con diversi capi d'accusa a suo carico tra cui due accuse di omicidio e ora finalmente porterò a galla tutto e vi spiegherò il motivo per cui Wade Wilson il tempo cercando di sfuggire alla polizia quel giorno mentre l'intero dipartimento di polizia era alla ricerca di Wade l'ispettore Timothy se vi ricordate mentre era alla centrale con Melissa aveva chiesto di mandare una pattuglia alla casa di Christine Melton perché le numerose chiamate che Melissa aveva ricevuto quella mattina arrivavano proprio dal suo cellulare l'ispettore aveva quindi ipotizzato che Christine potesse essere con Wade ma all'arrivo della polizia alla sua abitazione purtroppo verrà fatta una scoperta raccapricciante quando gli agenti arrivano a casa di Christine bussano numerose volte ma non ottengono alcuna risposta e così decidono di forzare la serratura la casa è immersa nel buio e tutte le serrande sono abbassate gli agenti si recano in salotto e sul tavolo notano della polvere bianca presumibilmente cocaina a quel punto i poliziotti chiedono se ci sia qualcuno in casa ma non ottenendo risposta continuano a perlustrare l'abitazione fino alla camera da letto sui muri notano subito diversi schizzi di sangue e a terra sul pavimento vedono un grosso sacco nero della spazzatura con all'interno i vestiti di una donna a quanto pare i vestiti di Christine sempre in camera poi sul letto c'è il corpo senza vita di Christine accanto a lei c'è il suo gatto che è rimasto a vegliare su di lei aspettando l'arrivo dei soccorsi Christine era stata selvaggiamente picchiata e strangotta a morte la notte tra i 6 e il 7 ottobre adesso ricostruiremo i fatti secondo le testimonianze e le dichiarazioni di Wade quella notte dopo che i quattro erano andati a casa di Jason Wade e Christine avevano deciso di continuare la serata a casa di Christine per poter avere più intimità ad accompagnarli era stata l'amica di Christine Stephanie quando erano arrivati davanti a casa Stephanie le aveva chiesto se fosse tutto a posto se fosse sicura di rimanere in casa da sola con lui vedendolo già visibilmente alterato per la droga Christine in risposta aveva rassicurato la sua amica dicendole che andava tutto bene e che l'avrebbe chiamata se avesse avuto bisogno così Stephanie aveva salutato Christine e se n'era andata ignora del fatto che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto la sua migliore amica una volta entrati Wade e Christine avevano consumato un rapporto sessuale fino a quando lei intorno a circa le 5 di mattino non era crollata sul letto Wade intanto però avrebbe continuato a fare uso di alcol e di cocaina fino a letteralmente impazzire e poi avrebbe picchiato Christine e l'avrebbe strangolata a morte ha poi cercato di nascondere il cadavere inglobandolo intorno a delle lenzuola e con l'intento di trasportarlo fuori città e smaltirlo in qualche area boschiva ma il sole fuori stava già sorgendo e Wade a quel punto aveva realizzato che portare fuori il cadavere della donna avrebbe destato non pochi sospetti così aveva deciso semplicemente di andarsene da quella casa intorno alle 8 del mattino prendendo sia il telefono di Christine che la sua auto la Nissan nera una volta nella macchina aveva poi cominciato a chiamare la sua fidanzata Melissa in maniera insistente chiedendole di vedersi immediatamente dopodiché Wade si era recato alla spa dove lavorava Melissa e l'aveva aggredita selvaggiamente per poi scappare di nuovo con la Nissan di Christine Christine Melton aveva solo 35 anni ed era cresciuta in Illinois si era poi trasferita con un'amica a Cape Coral dove al momento dei fatti stava lavorando come cameriera il motivo del trasferimento era per stare più vicino a sua madre infatti le due abitavano solo un chilometro di distanza i suoi cari e gli amici l'hanno definita come una ragazza dallo spirito brillante sempre pronta a far sentire appropriaggio le persone intorno a lei secondo quanto riferito la donna viveva da sola insieme al suo amato gatto di nome Monty che sarebbe stato il suo guardiano fino alla fine purtroppo in quell'arco di tempo tra la fuga da casa di Christine e l'arresto Wade mieterà una seconda vittima e sì sto parlando proprio di Diane Ruiz la 43enne scomparsa quel giorno che non si era presentata a lavoro l'unico errore che la donna aveva commesso quel giorno è stato incrociare il percorso di un maniaco omicida il suo cadavere verrà ritrovato il 10 ottobre in un'area boschiva fuori da Cape Coral ma cos'è successo a lei secondo le ricostruzioni Diane è uscita di casa intorno alle 9.50 dopo aver salutato i suoi figli e suo marito e si è diretta a lavoro a piedi come ogni giorno camminando lungo la strada Wade a bordo della Nissan Nera l'avrebbe notata e le avrebbe chiesto delle indicazioni per una scuola vicina Diane essendo una donna sempre disponibile pronta ad aiutare ha iniziato a dargli le indicazioni e Wade non si sa come è riuscito ad attirarla nella sua macchina dopo qualche minuto però Diane si è accorta che il ragazzo sembrava visibilmente sotto l'effetto di qualche sostanza e non sentendosi più al sicuro ha ripetuto le informazioni che gli servivano per arrivare a destinazione e ha provato a scendere dall'auto ma purtroppo senza successo perché Wade aveva bloccato tutte le portiere Diane gli ha quindi chiesto di fermarsi e farla scendere ma Wade all'improvviso si è accanito su di lei e ha cominciato a colpirla con pugni e schiaffi per poi strangolarla poi l'ha spinta fuori dall'auto e l'ha investita ripetutamente fino a schiacciare completamente il suo corpo dall'autopsia verrà fuori che la donna probabilmente è stata investita dalle 15 alle 20 volte Diane verrà identificata dal suo marito solo grazie a un suo tatuaggio perché ormai gli insetti avevano anche mangiato gran parte della sua pelle Diane è stata invece descritta come una donna molto premurosa gentile altruista e si vede anche da come ha interagito con Wade oltre a questo era una mamma amorevole e una grande lavoratrice pensate che in 5 anni non aveva mai perso un solo turno di lavoro Wade Wilson viene quindi arrestato quel giorno e viene subito portato al dipartimento di pulizia di Cape Coral con diverse accuse a suo carico tra cui omicidio aggressione furto con scasso e violazione di domicilio secondo un rapporto pubblicato il 15 ottobre 2019 quindi una settimana dopo il suo arresto Wade avrebbe chiamato Melissa il 10 ottobre quindi soli 3 giorni dopo l'arresto per confessarle di aver ucciso Christine Melton e Diane Ruiz ha ammesso di averle strangotte entrambe spiegando che l'abuso di droga lo ha incasinato e lo ha portato a compiere gli omicidi a circa 6 settimane dall'arresto il procuratore di stato Amira Fox ha organizzato una conferenza stampa per fare un annuncio importante riguardante il caso di Wade Wilson nella conferenza ha annunciato l'incriminazione di Wade e ha dichiarato che il gran giurì ha stabilito che le prove erano sufficienti per dare il via ad un processo penale nei suoi confronti il giorno del processo è stato quindi fissato al 25 novembre 2019 alle 8.30 ma purtroppo ha continuato a subire diversi ritardi a causa delle continue emozioni preliminari e poi come sapete bene è arrivato il covid che ha ritardato notevolmente l'inizio del processo Wade verrà trattenuto nel carcere della contea di Lee dove nell'ottobre del 2020 proverà a fuggire insieme al suo compagno di cella durante la sua prigionia ha anche collaborato con alcuni detective riguardo a un caso in quanto avrebbe rivelato loro che un altro detenuto aveva intenzione di uccidere sua moglie questo detenuto era finito in carcere proprio a causa dell'aggressione che aveva fatto alla moglie e Wade si era fatto dare tutti i dettagli del piano per ucciderla convincendolo di avere diversi contatti all'esterno che avrebbero potuto aiutarlo a togliere la vita a sua moglie facendo intendere quindi che avesse dei sicari insomma ma Wade invece di aiutare il detenuto aiutare oddio invece di dare una mano al detenuto col piano folle è andato a rivelare tutto ai detective che hanno aperto un'indagine la testimonianza di Wade si rivelerà poi di fondamentale importanza per condannare l'altro detenuto per tentato omicidio a essere sincero penso che Wade abbia fatto questo non perché avesse una morale ma piuttosto per un tornaconto personale in questo modo magari pensava di suscitare un po' di pietà in aula e avere magari una riduzione della pena ma direi che non ha affatto funzionato nel corso di questi anni mentre era in carcere Wade ha subito una grande trasformazione e adesso vi spiego perché il processo per gli omicidi di Cape Coral è iniziato solo nel giugno 2024 quindi il mese scorso quando Wade è entrato in aula ha fatto non poco scalpore per via dei suoi nuovi tatuaggi sul volto e sulla testa e molti dei video del processo sono finiti poi su tiktok dove ho scoperto appunto la storia l'uomo si è presentato in tribunale con il viso tatuato e parliamo di tatuaggi piuttosto discutibili ai lati della bocca si è fatto tatuare dei punti di sutura che ricordano in qualche modo il sorriso del Joker oltre a ciò si è anche fatto tatuare una svastica sotto l'occhio destro e una grossa svastica sul cranio gli avvocati gli hanno suggerito di nascondere questi due tatuaggi nello specifico durante il processo in modo da non influenzare le opinioni dell'accusa consiglio che però Wade non ha ascoltato ma al di là dello scalpore generato proprio a causa di questi suoi tatuaggi l'aspetto che vorrei toccare è la totale mancanza di emozioni e di empatia da parte dell'assassino per tutto il tempo lo possiamo vedere lì che non esprime nessun rimorso nessun senso di colpa o nessun accenno che possa far pensare che quest'uomo abbia dei sentimenti o provi in qualche modo un senso di colpa per l'atrocità che ha compiuto il suo sguardo è completamente vuoto totalmente assente e per tutto il tempo sembra quasi che non si renda nemmeno conto di dove si trovi e del fatto che sta per essere condannato la difesa ovviamente durante il processo farà tantissimo leva sui suoi disturbi mentali e sul fatto che Wade al momento degli omicidi fosse sotto l'effetto di stupefacenti e quindi non fosse in grado di capire esattamente cosa stesse facendo in particolare un avvocato della difesa accuserà l'amico di Wade ovvero Jason di aver dato a Wade del fentanyl spacciandolo per cocaina ok il 25 giugno dopo il verdetto di colpevolezza la giuria raccomanda la pena di morte per Wade Wilson ma la sentenza finale avverrà solo il 23 luglio e voi direte Andrew è oggi il 23 luglio esatto quindi se in effetti la sentenza si terrà oggi vi farò uno short al più presto per informarvi altrimenti comunque in questi giorni in qualche modo vi do ulteriori notizie non posso dirvi tutto nel video di oggi perché lo sto registrando già da una settimana prima rispetto a quando voi lo vedrete quindi in questo momento mentre registro non ci sono ancora aggiornamenti comunque la legge della Florida richiede che almeno 8 giurati votino a favore della pena di morte e in questo caso 10 dei 12 giurati del tribunale della contea di Lee a Fort Myers hanno votato a favore della pena di morte per l'omicidio di Ruiz e invece 9 giurati su 12 hanno votato lo stesso per l'omicidio di Melton in ogni caso se per qualsiasi motivo il giudice non condannerà a morte Wilson l'uomo passerà comunque il resto della sua vita in prigione senza la possibilità di richiedere la libertà condizionale e queste sono tutte le informazioni che siamo riusciti a recuperare riguardo questa storia siccome si tratta di un caso molto recente ne hanno parlato soprattutto i giornali locali abbiamo dovuto letteralmente mettere insieme i pezzi tra tutte le testimonianze le interviste i video le dichiarazioni il tribunale il processo eccetera e anche ovviamente il video delle bodycam dei poliziotti solo in questo modo siamo riusciti a ricostruire la storia in ordine cronologico e fare chiarezza sul modo in cui si sono svolti i fatti vi terrò comunque giornati sulla sentenza ovviamente e spero che questo video abbia chiarito le idee anche a voi fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate di questo caso e se credete che sia giusto che Wade Wilson venga condannato a morte per gli omicidi e ovviamente un pensiero va come sempre alle vittime Christine Melton giovane donna di 35 anni uccisa nel sonno e Diane Ruiz mamma amorevole che in una giornata come tante è stata brutalmente uccisa senza alcun motivo ecco se in qualche modo vi è piaciuto passare del tempo con me vi invito a mettere un mi piace a questo video o non mi piace se invece non vi è piaciuto che vedevo di se ancora non vi siete stancati di sentirmi parlare qui trovate il video che YouTube pensa vi piacerà e ricordate YouTube non si sbaglia mai mentre qui trovate la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento a questo venerdì con un altro file ciao ciao